Siamo con Nicolo Bertocco. Nicolo, allora settimana altalenante, tra virgolette. Bella vittoria nel derby contro Giulianova, poi un passo indietro a Rieti. Ti chiedo le tue sensazioni per questa settimana. Allora, siamo partiti domenica bene, vincendo il derby contro Giulianova. Dopo mercoledì siamo andati a Rieti contro la Sebastiani, che sapevamo che è un'ottima corazzata. E purtroppo abbiamo sbagliato l'atteggiamento in campo e quindi abbiamo subito parecchio il primo tempo. Mentre il secondo tempo comunque segnava i parziali, non è andato tutto sommato male. Hanno segnato comunque 70, abbiamo tenuto una squadra come la Sebastiani a 70 punti. Però il problema è che in attacco abbiamo fatto fatica e loro sono stati molto bravi a toglierci le nostre certezze. Nicolo, campionato che entra sempre più nel vivo, Teramo che in questo momento ha quota 10 punti in classifica. Siete di fatto all'interno di quel megagruppo in un certo senso che è nel mezzo della classifica? Sì, diciamo che siamo in linea con i risultati che volevamo. Certamente magari se avessimo unito contro Imola in casa avremmo due punti in più che ci farebbero molto piacere. Però siamo in linea con i nostri obiettivi. Domenica giochiamo contro Cesena che è una sfida molto importante. Adesso abbiamo questi due giorni per metterci di nuovo sui binari, trovare le nostre concentrazioni per disputare una partita solida domenica. Che tipo di partita ti aspetti contro Cesena? Ovviamente si tornerà in casa, quindi ti chiedo anche se sarà fondamentale l'apporto del pubblico. Giocare in casa è sempre meglio che giocare fuori casa. Poi come un pubblico come quale, Scalpriano, che ci dà sempre una mano anche nei momenti difficili, è sempre lì a incoraggiarci. Quindi benvenga che giochiamo in casa. Sarà una partita sicuramente fisica, una partita tosta come tutte le domeniche. Entraremo in campo per vincere questa partita. Grazie a tutti.